Pippo Zani, allenatore della Torres Juniores, finalmente inizia questo campionato il 7 ottobre contro l'Ossese, sarà la vostra gara di esordio, come senti la squadra pronta per affrontare questo primo impegno? Non lo so, io so solo che abbiamo lavorato tanto, so che c'è un ottimo connubio tra Juniores e prima squadra con il mister Cirinà non vediamo l'ora di cominciare per vedere i ragazzi come reagiranno dopo un mese e mezzo di attività fisica Attività fisica ovviamente non solo, ci sono state anche delle amichevoli, i ragazzi poi spesso come oggi si allenano con la prima squadra è un modo anche per farli sentire un po' tutti i protagonisti? Il progetto è questo, il Presidente ha voluto assolutamente questo connubio tra allievi Juniores e prima squadra per il momento sta andando tutto bene perché abbiamo l'allenatore della prima squadra che in questo senso ci aiuta tantissimo quindi è un onore collaborare con lui e sì, insomma il connubio speriamo che funzioni ma noi siamo convinti che questo progetto darà i suoi frutti Una prima partita contro una squadra forte e quindi già un impegno importante? Giochiamo contro i vice campioni sardi, l'Ossese è una società che è cresciuta tantissimo, abbiamo grandissimo rispetto perché sappiamo che sono un'ottima squadra e quindi non vediamo l'ora di confrontarci contro i vice campioni sardi E allora invitiamo anche tutti a venire a vedervi per sostenere anche la Juniores della Torres Grazie, sì, noi saremo qui a Ossi a difendere i nostri colori, i nostri mitici colori e speriamo di dare prova di maturità, di gioco e di far divertire le persone che vorranno venirci a vedere Grazie Mr. Zani Grazie a voi Grazie a voi